buongiorno eccoci qui siamo tornati per qualche video mi sono arrivati diverse richieste di chiarimenti a seguito di un video che ho pubblicato sulle pompe centrifughe volevo quindi parlare approfondire un po il discorso in merito a queste macchine operatrici le pompe servono per spostare dei fluidi che siano essi acqua o olio o altre tipologie di fluidi con una certa portata e una certa prevalenza quindi una certa pressione per poterli portare a una certa altezza esistono diverse tipologie di pompe dalle pompe diciamo così centrifughe dinamiche alle pompe volumetriche la differenza tra queste due grosse tipologie di pompe insita nel nome le pompe volumetriche spostano un volume di fluido le pompe centrifughe o dinamiche lavorano su un concetto differente che è quello di spostare un fluido sfruttando la forza centrifuga volevo parlarvi di due tipologie di pompe centrifughe le pompe centrifughe classiche le pompe centrifughe periferiche le pompe centrifughe periferiche sono delle pompe particolari che sfruttano sempre l'effetto centrifugo ma hanno delle giranti di tipo aperto come possiamo vedere in queste immagini che vantaggi presentano le pompe periferiche rispetto alle pompe centrifughe che consentono di ottenere delle prevalenze piuttosto elevate con motori di poca potenza sono pompe che tipicamente troviamo su applicazioni dove non servono grossissime portate quando le portate aumentano inevitabilmente dobbiamo andare ad utilizzare pompe centrifughe classiche quando invece stiamo parlando di portate piccole una pompa periferica può essere un'ottima soluzione per ottenere dei valori di prevalenza quindi di pressione elevata utilizzando delle potenze limitate come potete vedere da queste immagini le curve tipiche di funzionamento di una pompa centrifuga e di una pompa periferica sono leggermente diverse questo evidenzia il fatto che vi spiegavo prima legato al tipo di funzionamento della pompa e alle caratteristiche peculiari viceversa una pompa centrifuga consente di spostare anche grosse quantità grossi volumi di acqua con pressioni anche interessanti anche importanti ma che richiedono comunque motori con assorbimenti elevati chiaramente stiamo parlando di concetti di fisica di conseguenza un lavoro implica l'applicazione di una certa potenza possiamo però dire che le pompe periferiche consentono di svolgere determinate applicazioni in modo abbastanza economico alla prossima